Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con la campagna di Call of Duty Advanced Warfare, siamo diretti a New Baghdad. Cormac, non ce l'ha fatta. Non manca molto. Non fermarti. Non. Dai, Cormac. Nooo, amico mio. Che cavolo. E adesso? Adesso la facciamo finita. Solo noi possiamo impedire Iros di lanciare Manticore. Siamo in tre, contro un esercito, è un suicidio. Hai ragione, ma è quello che avrebbe fatto lui. Ok. Hai qualche idea? Soltanto una. Hai capito Mitchell? Terminus, New Baghdad, Iraq. Tipo EXO, AST, mitragliatrice a cadena, micro razzi, missili swarm. Che cacchio è? Poteva pensare un piano del genere. Un attacco frontale alla fortezza di Irons, con due mech che avevamo trovato alla base. Una volta arrivati, saremmo stati da soli. Sentinel 2-1, in città continuiamo a rilevare alti livelli di contaminazione. Non potremmo inviarvi il supporto via terra, passo. Iniziamoci, abbiamo trovato due belle corazzette. Iniziamoci, abbiamo trovato due belle corazzette. Un riscaldamento. Altre imbarcazioni a cuoco. Arma principale pronta. Razzo pronto. Razzo pronto. Metemi, spara quelle banche. Razzo pronto, razzo pronto! Razzo pronto. Un riscaldamento. Un riscaldamento. Attendere. Bam. Arma principale pronta. Razzo pronto. Perfetto Boom Oh come va da non prenderlo Cacchio attacco frontale Alla fortezza di Iron Che numeri C'è in uno per spianciare Aspetta che finisco di uccidere Un po' di gente Ok Mamma mia Che spettacolo Non abbiamo mezzi automatizzati disponibili Stiamo attaccando con tutto quello che abbiamo Spiacente ma dovrete arrangiarvi da soli Se pensate di non poterlo fermare Levatevi di torno Si bene comunque Tutti molto ottimisti Nel senso a parte noi non ci aiuta nessun altro Non abbiamo neanche altre risorse Quindi siamo messi veramente male Ma pure Gideon sta con un'armatura mecca Da quello che ho capito Non capisco invece l'ona Che tipo di supporto ci darà Quindi obiettivo Attacco frontale alla fortezza Mamma mia Mamma mia Siamo proprio matti Mamma mia Comunque questa dovrebbe essere la resa dei conti Perché la La missione si chiama Terminus Speriamo Siamo ottimisti Dai Ste curazze Porca miseria Se ce la facciamo Ci siamo evasi con una curazza del genere Sto dietro Sto dietro Che spettacolo Ste armature ci hanno inseguito Dalla fortezza nostra Inferma il lancio di Manticore Milona Siamo dentro La piattaforma di lancio è lì vicino Allarme sicurezza A tutte le unità Convergere al settore 4 Siammi missili pronto Razzo pronto Arma principale pronta Personale non autorizzato nel settore 4 Perfetto Intusi nel settore 4 Mo' ci divertiamo Penso che ci sarà di tutto però eh Qua penso ci sarà di tutto Andiamo ragazzi Andiamo O meglio ragazzi Siamo solo io e te Gideon quindi Dai dai Gideon fai danni pure te però Bam Che spettacolo Ok Allarme sicurezza A tutte le unità Convergere al settore 4 Boom Mamma mia Che spettacolo Venite qua Personale non autorizzato nel settore 4 Ok Andiamo Dove vai? Ma non ti rendi conto contro chi ti stai a mente? Boh Ma siete furbi eh Porco cane Che cacchio sta maffavo Aspetta che sta uno qua a sinistra Gideon Non lo sei fatto? Grande Andiamo Uno qua dietro eh Lo ammazzo io Procediamo Prima ti ti rileva davanti Perché c'ho paura del fuoco Al mio Vieni qua Raggi pronto Senti a questi quei lanciarazzi Aspetta Bam Oh Oh Ma non lo vedi Gideon? Ma non ci vedi? Raggi pronto Ok Mamma mia Che strage Che strage Quello dove va? Ma dove va questo? Dove andate? Bam Dove volete andare? Per curiosità Caricamento in corso Yeah Aspetta Ho sparato un po' troppo Ho sparato un po' troppo Gideon dove sta? Ma guarda lì Bam Aspetta mi Gideon Gideon Qua si Poi Devo fare tutto pure Tutto io Vai Porco cane Che cacchio Dei danni Che stiamo a fa? Oh Ma vuoi morire? Vuoi morire? Mi fa in piscchio Aspetta Aspetta Uno qua Uno qua Aspetta Questi quei missili 3 minuti Mori Bene Caricamento completato Vedi che non fai più il cuo alto Dove sta Gideon? Gideon? Gideon me vuoi aspettare? Quello laggiù? Ok Andiamo Oh Questo dove va? Ma pazzo Andiamo a scendere? Sì Vai Vai Porco cane Che panico Eccoli Meccate questo Ricarica Ricarica Aspetta Vieni qua Vieni qua Vieni qua E BAM Con un doppio raggio Amore BAM Forza Forza Ok Siete nostri Bello Porco cane Ragazzi Che missione Devastante Porco cane Che degeneru Che degeneru Die Sfida uccisioni Completata Beccate questo Ma guarda Che stiamo a combinare Danni veri Su Muori 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 Quello Dove va Muori Che spettacolo Vieni qua Procediamo Uno là sopra BAM Forza 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 Non ci avrete Proprio Possibilità Yeah Quadrupla Che spianata Che spianata Mamma mia Entriamo Da soli Stiamo a buttare Tutto Che spettacolo Sto E' Sto Sto Che danni che stiamo a fa' Oh ma Qua ne abbiamo uccisi un mare Tra L'artri Robot Armature comandate E quant'altro Ok ragazzi Fermiamoci qui e ci vediamo nel prossimo video Che continuiamo questo attacco Alla base di Irons a New Baghdad Al prossimo video con Call of Duty Advanced Warfare